Centimetri, fame e presenza in area di rigore sono le qualità che Gianmarco Piccioni garantirà alla Fidelisandria, il centravanti classe 91 e dopo Sante Russo il secondo acquisto over del calcio mercato invernale per i bianco-azzurri di Pasquale De Candia, reduci dalla prima sconfitta casalinga in stagione per mano del Matera e proprio nella città dei Sassi il nuovo arrivato aveva lasciato il segno nella scorsa annata, 16 reti in 28 partite e un ruolo chiave nella scalata in classifica del gruppo allenato all'epoca da Ciullo, pass per il trasferimento estivo alla Nocerina dove però Piccioni, figlio d'arte, suo padre Enrico negli anni Ottanta ha giocato in Serie B con Perugia e Cremonese, non ha inciso secondo le attese, un solo gol e un ballottaggio costante con Parravicini che non ha dato i frutti sperati, ora per l'attaccante 32enne un passato da Globetrotter del calcio con tappe in Bulgaria, Malta e Romania e le esperienze in C con Sant'Arcangelo andando in doppia cifra nella stagione 2017-18 Teramo, Rimini, Arzignano, Valchiampo, la nuova sfida si chiama Andrea, una destinazione preferita anche all'Aquila, altro club che lo ha cercato con insistenza e in cui aveva già giocato in passato in seconda divisione. In bianco-azzurro troverà l'attacco più prolifico del girone con 26 reti, nonostante il solo centro segnato nelle sfide con Bitonto e Matera e una canita concorrenza. Scaringella e Sasanelli hanno segnato sei centri a testa, Strambelli il faro sulla trequarti, Russo e Martinez alternative di spessore in fascia in attesa di decifrare il futuro di Jefferson al momento ai box per infortunio, per Burzio invece si attende solo l'ufficialità dell'addio, la sensazione carriera alla mano e che Piccioni possa sia integrarsi in un attacco a due con Scaringella che giocarsi un posto con quello che ad oggi è il terminale offensivo bianco-azzurro. Movimenti e atteggiamenti tattici che incideranno inevitabilmente sulle scelte di Decandia, forse già a partire dalla sfida di domenica prossima al Miramare contro un Manfredoni in salute, sconfitto una sola volta nelle ultime dieci partite giocate nel girone HD serie D. Fischio d'inizio alle 14.30 per una partita che si giocherà a porte chiuse e Telesveva trasmetterà in diretta tv sul canale 18 e sui social attraverso Facebook e YouTube. Grazie.